24 ore di giugno anche il Fiorino d'Oro, oggi avete annunciato i nomi. Come ormai tradizione da qualche anno, a Palazzo Vecchio vi sarà nel pomeriggio alle 14.30 il conferimento del Fiorino d'Oro. Quest'anno ho voluto scegliere una serie di persone legate a Firenze che hanno dato lustro non solo a nostra città ma vorrei dire a tutto il Paese. Anzitutto Lampi in occasione del settantesimo della liberazione e così anche la Fondazione Meiere che tutti i fiorentini amano ma in particolare vorrei ricordare il Fiorino d'Oro alle due scienziate dell'Università di Firenze, Banci e Sessoli e al giovane carabiniere che ha salvato due bambini e non più tardi di qualche settimana fa dall'annegamento in un pozzo. Oltre che due imprenditori molto legati alla città come Mauro Pagliai e Torello Latini. Sono storie, storie da raccontare perché alla fine il Fiorino d'Oro è un modo per raccontare storie e simbolo a tutti i fiorentini e a tutto il Paese perché ciascuno di noi possa prenderlo come esempio al quale ispirarsi. E così il 24 giugno sarà anche il giorno dei Fiorini d'Oro oltre che il giorno del nostro Santo Patrono e dei Fochi. Grazie a tutti.